Il mercato rionale dell'area ex Palmiotto nel quartiere Piccone Sulle bancarelle si trova di tutto, frutta, verdura, prodotti sott'olio e gli immancabili frutti di mare che insieme alle anguille rappresentano gli elementi indispensabili del menù della vigilia Sempre quelli, anguilli, tutto misto, allievi, polpi, tutte quelle cose Insomma per quel che riguarda il menù è tutto pronto o quasi, mentre per i regali qualcuno è ancora a caccia di qualche idea originale Sto ancora pensando, penso di andare su bigetteria e cose così In totale quest'anno avrò speso sui 200-300 euro comunque, per tutti i amici e parenti vari, è la mia ragazza Corsa dei regali a parte, il centro di Bari anche quest'anno si è animato tra aperi vigilia, passeggiate e quattro chiacchiere tra un cocktail e un po' di musica Tanti auguri! Tanti auguri!